Francesco, vieni, vieni, aspetta, sentiamo, eh. Oddio! Che sembra? Un tamburo, che sembra? Un tamburo, ma pensa quanto è croccante, prova a spaccare. No, vabbè, questa è proprio la caramella. È tipo Greger. È tipo Greger. Madonna. No, vabbè ragazzi. Diciamo che la pelle croccantina del maialino, cotta alla sarda, non si batte. Perché ragazzi, vi devo dire dove sto. In un posto incredibile, a fare una cosa incredibile. Quanto mi ha portato? Vuoi vedere tu stiamo? Ragazzi, ve lo faccio vedere dove siamo. Favamo partire il drone, dai. Drone! Ragazzi, quanto vi voglio bene, qui faranno mille gradi, dai, qui si muove. Vai Michele. Tre, due, uno. Alza prima. Bravo. No, no. Ok. Ah, vai. Madonna, che meraviglia ragazzi. Spettacolo. Poglialo dritto. Signori, che spettacolo. Sì, avete visto bene ragazzi, questo è un autogrill, lo dico adesso, poi non lo dico più perché quasi, sennò qui si arrabbiano. Lui è Massimo. È il boss qui di tutta l'organizzazione. Siamo a Verona, 5 km prima di Verona, sulla Milano-Brescia-Padova. Ok, questo A4, A22, che roba è? A4. A4, ok. E qui siamo al punto vendita, Bauli, in autostrada. Questo signore qua non è tanto sano di mente, è un abruzzese che lavora a Verona e che ha deciso, a partire praticamente da oggi, di inaugurare il menù carne. Oggi lo inauguriamo. Quanto me stai simpatico, quanto me stai simpatico. E abbiamo esordito col maialino alla sarda, che sembra una barzelletta detta così, no? Certo. Un abruzzese che vive a Verona, che fa il maialino alla sarda, che tra l'altro è molto buono. Abbiamo deciso di servire tanta carne. Tanta carne, cominciamo? Tanta carne di qualità. Andiamo a sceglie? Andiamo dentro? Andiamo dentro. Vai, cominciamo. Io ho fame, io ho sempre fame. Andiamo, andiamo, andiamo. Ah ragazzi, guardate un po' che c'è qui. Ciao, bandate scappati da casa, siete tutti negativi, le potete togliere la mascherina. Sono i fan di Bracciami Ancora che ho invitato qui per questa puntata Somma Campagna. Ragazzi, io lo dico sempre, se volete partecipare ai nostri video, ci dovete seguire su Instagram, se no, rimanete a casa con l'insalatina. Ve lo dico, ci siamo fatti il tampone, siamo tutti negativi, quindi vedrete il nostro bel sorriso, pure quello di Francesca. Che c'è? Che c'hai? È nero? Non so, mangiate un maglianino. Bene arrivati, andiamo a scegliere le bistecche, va bene? Questo ragazzi, io lo chiamerò impropriamente autogrill, ma qui si arrabbiano se lo chiamiamo autogrill, però per intenderci, insomma, il format è quello, sta sull'autostrada. È uno dei grill, dei punti grill più fighi, più eleganti, più raffinati, ma questa mix che hanno fatto, cioè la brace con la raffinatezza è pazzesco. Veramente bello, tra l'altro ha fatto una selezione di carne che non trovate in nessun grill d'Italia e poi per la prima volta, santo Dio diciamolo, un autogrill che ha la griglia, perché di solito la griglia, il carbone e la brace non ce l'hanno. Tu praticamente hai piazzato qui mitico, mitico che è il nuovo frigorifero per frullare la carne della Everlasting, tanta roba e hai fatto una bella selezione. Ma come ti è saltato in mente? Perché sono amante della carne da sempre. Qui abbiamo un traffico di persone esagerato tutti i giorni e quindi sicuramente ci capitano le persone che amano intanto la carne ma soprattutto la qualità. Massimo non si voleva far parlare dietro e ha ordinato il meglio in circolazione da quanto vedo. Secondo me ti guardi tutti i video di Bracemianco, guardate, c'è sto sospetto. Esattamente. Perché abbiamo l'Asacura qui nel gruppo Galli di cui ho chiacchierato ampiamente in qualche video precedente. Ti sei andato a prendere l'Angus di Mr. Bici, è uno dei migliori allevatori italiani. Qui abbiamo una Polonia che non fa mai male, una costata dei Carpazzi interessante, questa non so che sia però l'aspetto è bello. È sempre gruppo Galli. Sempre gruppo Galli. Non ti fai parlare dietro. I clienti troveranno sempre questa roba? Assolutamente sì. Quindi da tutta Italia. Fantastico. Meraviglioso. Massimo, ma questo grill da dove arriva? Perché questo a me dà tanto l'idea di un grill costruito artigianalmente. Assolutamente sì. Chi ti ha fatto? Me l'ha fatto un fabbro. L'ho fatto copiare da quello di casa che ho da 20 anni con le stesse dimensioni. Tu a casa c'hai questo? Quindi a casa ho questo qui, solo che l'ho fatto rifare in acciaio. Ma a casa qui a Verona o a casa in Abruzzo? A casa qui a Verona. Ok, in Abruzzo c'è le fornacelle qui. Abbiamo il mondo, vai. Ah, aspetta, scusa. Perché dovete sapere ragazzi che quando faccio la call to action per partecipare a questi video arrivano solo uomini. Oggi per fortuna è arrivata Martina. È arrivata Martina. Hai quale? Martina, dov'è? Martina, questo è uno speciale dono che ti faccio. La zampetta del maielino, ma quando ti ricapita? Versus Comandilli under pressure Piena guerra ragazzi. Massimo versus bistecche. Cammiotta in caldo. Senti, ti devo fare i complimenti, sei sopravvissuto all'inferno del fuoco praticamente. E i bistecche mi piacciono? No ragazzi, c'è un profumo pazzesco. Martina, vieni qua. Metti il tuo nasino qua. Senti che roba? Tanta roba. Mentre Massimo taglia la carne per i nostri amici che sono venuti a trovarci volevo però soffermarmi sulla presenza ragazzi di questo armadio per frullare. Questo è mitico. È praticamente un frullatore di ultima generazione realizzato sempre dalla Everlasting. È l'evoluzione del vecchio stagionatore. Non credo che ci siano grill in Italia che hanno un'offerta gastronomica carnivora del genere ma credo che questo sia davvero l'unico grill autostradale che mette addirittura un armadio per frullare le cardi. Tanta, tanta, tanta roba. Gli va dato atto ragazzi di aver davvero usato. Bravo, guarda, ti devo fare davvero tanti complimenti. Mi piace da morire. Ragazzi è arrivato. Io direi, ci dà un applauso, ci sta tutto. No, ti prego. Riprendi quello che si sta mangiando Francesca perché se non fosse che ci porta il vino buono e ci azzecca sempre sarebbe da non farla più venire. Guarda. È vero, questo è il mio contorno. È il contorno. Signora, se aspetta cinque minuti c'è una porzione anche per lei. Però lei mi va via. Vedo che mi va via. Torni a trovarci. Le bistecche se le sono magnate tutte. Ho visto, ho visto. Ormai a questo siamo abituati. Dobbiamo sporzionare il maialino. Ti chiedo però, annusalo. Ok. Poi vai a scegliere un vino. Ok. Non te lo faccio assaggiare il maialino. Devi andare di memoria. L'ultima volta che l'hai mangiato, quando è stato? Quattro anni fa. Quattro anni fa. Quindi vai a cercare nel cassetto della memoria quei sapori e vanno a trovare un vino che però tu non conosci. Com'è? È maialoso. È maialoso. Senti che... No, arriva poi. Aspetta un po'. Aspetta un po'. Posso regalare un pezzettino di crosta a Filippo? Che mi ha portato il vino. No, 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 aspetta un attimo. Niente. Sottacchi. Quanto donno. Roba pazzesca. Dammi un po' la cotenna, il pezzetto di cotenna, Mauro. Ma che cazzo lo pago? Cotenna di maialino alla sarda mangiato in un autogrill in Italia. Cotto alla braccia da un abruzzese. Ragazzi, unico in Italia. Ma chi ve le dà sti costi? Ma tu cazzo è bollo. Tu cazzo è bollo. Dai, va scegliere sto vino che c'è lo sete e questo è quasi finito. Va bene. Vai. Vai, maschero, maschero, vado. Allora, c'è una parte di bollicine e poi qua ci sono varie aziende che propongono comunque i prodotti tipici, quindi vitini autottoni. E quello che si fa in questa terra, che sicuramente è una grande terra qua, terra di amarone, quindi assolutamente abbiamo più proposte. Valpolicella, ripasso, rescioto di soave, insomma ci sono delle belle cose. Però ho notato che questo posto sicuramente tiene a questa azienda qua, corteggiara. Ora, io questa azienda non l'ho mai bevuta, ci propone comunque anche delle cose di questa terra, quindi io... Michele mi ha chiesto di prendere qualcosa che non avevo mai bevuto, quindi io direi di provarla. Io andrei sul Valpolicella. Andiamo a vedere perché io questo non l'ho mai bevuto. Andiamo! Ok ragazzi, finalmente ho portato un po' di vino, inizio da te. Francesca, c'è Aldo, grande fan di Bracciami Ancora, che ha una sorpresa per te. Allora, vorrei fare un finito a tutti quanti, alla nostra Francesca che ha gentilmente accanto il vino. Viva il vino sfumeggiante, nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante, che mi tende in fondo nel giubilo. Viva il vino che è sincero, che ci aieta ogni pensiero, e che affoga l'umore nero nell'ebrezza tenero. Chi è? Com'è andata? L'esperienza bellissima, la consiglio veramente a tutti. La carne più buona secondo me è quella, il Black Angus del signor Placido. Buonissime le costate, buone anche quelle di Galli, buonissimo il maialino. Diciamo che sul maialino siete un po' arenati, eh? Eh, perché eravamo pieni. Il maialino mi ha conquistato. A lui è piaciuto tanto il maialino. E soprattutto la scelta del vino, fantastico direi. Tutto buonissimo, anche a me nel Black Angus. E ragazze, venite, bisogna partecipare di più qua. E insomma, l'unica impossibile. Più donne, più donne! Questa cosa di atomico. Ma la guancia dove sta? Qua, no, qua. Tu mani d'orecchia. Ma perché il maiale c'ha la guancia? No, la camisea. Mani d'orecchia. Guarda, senti? Questa è la parte più buona del maiale. E andamene di lasciare un pezzetto. C'è l'altra guancia. Una cosa atomica. Ragazzi, la cosa più buona che abbiamo mangiato in vita mia era un maialino in Sardegna immediatamente seguita da questo c***o di maialino sardo cucinato in provincia di Verona da un'abruzzese. Siamo a livelli atomici. Qualcosa di atomico. Qualcosa di mortacito quanto è buono inside. La cottura lenta l'ha fatta diventare gelatina. Io potrei mangiarne a tonnellate. Com'è l'orecchia? È buona. Allora, direi che porrei fine a questa scena tribale. E amici, mi lasciamo ancora. Grazie di averci seguito. Mi raccomando, se passate da queste parti venite a trovare Ball & Grill, fatevi una mangiata qua. Prendetevi le bistecche, prendetevi il maialino, prendetevi quello che vi pare. Basta che stiamo in un carnivoro. Credo di aver detto tutto. Grazie a tutti. Sei tutto a tutto. Ci lo so. Grazie di avermi accompagnato. Ragazzi, un abbraccio. E con un abbraccio sia con voi. Ciao, alla prossima. Allora, ricordami un attimo tu chi saresti. Io sono Enrico Paoli. Enrico Paoli. Il cognome mi dice qualcosa. Che ruolo ci avresti? Cioè, se questo è il Pandoro, tu dove stai? Io sto là in cima, più o meno. L'amministratore delegato? Sono zucchero a velo. Ah, sono zucchero a velo. Tu sei lo zucchero a velo. Mi piace. Confermi, è Baoli vero? È Baoli vero. Posso toccare? È duro, non sale Pandoro. Allora, signor Baoli vero, abbiamo deciso di chiudere il nostro video qui nel reparto dolci. Dici perché? Perché c'è un prodotto qui in questo bellissimo grill autostradale di cui tu sei orgogliosissimo. Veramente. Chiudiamo con come si chiude un'esperienza qui al Baoli Grill, con il minuto. Con il dolce. È un dolcetto, posso dirlo? Molto maragulo. Ma guarda, tutto è nato perché io mi sono reso conto che l'unico che riusciva a mangiarsi un Pandoro appena uscito dal forno ero io. Mio fratello, mio cugino, mio papà, i miei zii. Abbiamo detto, ma perché non riusciamo a farne uno magari piccolino che tutti riescono a mangiare appena è uscito dal forno. Allora ci siamo detto eh, facciamolo. Poi ci siamo resi conto che è una cosa complicatissima ma ce l'abbiamo fatta. Lo facciamo a mano, mettiamo qua un forno, mettiamo un lievitatore e tac! Ognuno sceglie. Sono fatti qua. Uno per uno. Uno per uno. A mano. Tu hai preso quella la nocciola. Questo qua è la nocciola. Tu ce l'hai al pistacchio. A me mi è rimasto solo il cartellino. Guarda, sei fatto pure quell'altro cartellino. Questa è l'esperienza conclusiva di quando si viene al bauli. Ma anche per prendersi un minuto nella vita, no? Passi qua, ti prendi un minuto in tutti i sensi. È figo. È un signor minuto. Dai. Sì, così ci si rilassa un attimo perché uno che viene in autostrada ha anche bisogno un attimo di relax. Un minuto. E allora gli diamo questo. Facciamo così. Mangiamocelo insieme. Va bene. Quando mi ricatita. Lo mangiamo con lui. Devo dire, io sono un esperto di carne. Francesco è un esperto di vini però sui dolci ti eseguiamo, ok? Allora, teoria e tecnica dell'addentata del minuto. Come ti si fa? Si deve spalancare perché poveretto è... Ha la burina proprio così? Burinissima. Ha la burina? Sì. Aspetta, famo? Famo. Quanto c***o è buono. Bravo, Rigo. Cin cin. Cin cin. Avvio. Buon appetito. Grazie, grazie. Oh, Henry. Allora, senti, il prossimo video lo giro a casetta ci vediamo lì, va bene? Scherzo. Ragazzi, un abbraccio. È tutto. Spero di essere stato esauriente di avervi raccontato tutto. Venite a trovare qui i bauli perché è un posto meraviglioso. Il menù carnivore è di serie A ma c'è pure la pausa dolce che avete visto. Il minuto, tanta roba. Grazie a Francesca che mi ha portato il vino che mi accompagna sempre. Un abbraccio, ragazzi, e che l'abbraccio sia con voi. Ciao.